Il canosa ribadisce il successo dell'andata e accede alle semifinali di Coppa Italia dilettanti il canosa dopo l'1-2 di gara 1 al San Sabino e 3-0 sulla nuova spinazzola dell'ex Gino Zinfollino grazie alle reti di Mangialardi, Sani e Sanchez su rigore. Le formazioni canosa con il 3-5-1-1, Mangialardi agisce alle spalle di Sani, Lamacchia e Coco sono esterni nel centrocampo a 5, spinazzola con il 4-4-2 a guidare l'attacco, Ruiballe e Caruso giochi in chiaro dopo meno di tre minuti per i padroni di casa, punizione calciata da Mangialardi al limite dell'aria, a Dario battuto e un a zero canosa, pratica qualificazione in discesa per il team di Gigi di Simone che florta poi con il bis, combinazione rapida Mangialardi-Sani Mangialardi lanciato a rete, si vede però respingere il tentativo, occasione poi per Sani che prova il pallonetto a tu per tu con l'estremo ospite, pallone deviato in corner da Dario, al quarto d'ora altra chance per il centravanti del canosa che aggancia il pallone in area, conclusione alta sulla traversa, primo segno di vita degli ospiti al sedicesimo, Ruibal ci prova dal limite, si distende in angolo capossele, il film si ripete 10 minuti dopo, altro tentativo di Ruibal dal limite dell'area, pallone a lato, ben più pericoloso il canosa, rasoterra di Barrasso dall'out di destra, rimorchio per Solano che calcia dal limite dell'area a mezz'altezza, si supera a Dario che chiude in corner, è l'ultima emozione del primo tempo, nella ripresa il film non cambia, cross di Lamacchia dalla sinistra, stop e tiro di Coco, il pallone si stampa sulla traversa, canosa un passo dal bis, seguono due tentativi ospiti, sul tiro dalla distanza di Inbaie, capossele respinge con il piede, un minuto è di testa sugli sviluppi di un corner, Diomandè colpisce il palo, superati i pericoli, ecco il gol che chiude i giochi, Sanì calcia praticamente da casa sua, 2-0 per il canosa, è gol da incorniciare, due minuti dopo, al 72esimo ecco il tris, il calcio di rigore lo conquista Lamacchia, dagli 11 metri calcia Nami Sanchez, conclusione precisa, è 3-0, il finale di pura accademia, Lamacchia in becca a Meneses con un cross, stop e pallonetto che termina a lato, lo spinazzola al novantesimo cerche il gol della bandiera, Baglie si mette in proprio e calcia a botta sicura, capossele prodigioso nella risposta, sigillo sul definitivo 3-0, le squadre si ritroveranno da avversarie domeniche in campionato, sempre al San Sabino nel tredicesimo turno di eccellenza pugliese.